Benvenuti in questo nuovo video LoL Mi ha aspettato Oggi è il nostro anniversario Quindi ovviamente Mio maritino mi ha fatto il regolino E io che pensavo che fosse fin No vabbè Grazie Questa diciamo che è un extra Perché poi veramente ho finito così Perché basta Anche perché sennò mi stufo anch'io Ma che vada se trovo Ancora tre polle celeste Ma che palle Io che porto solo due Allora Dicevo che magari le ultime che mi mancano Visto che sono solo cinque Le prenderò ma che vado Su internet da qualcuno che le vende Queste sono diciamo extra Extra large Allora iniziamo ad aprirne una Come al solito le altre Le apriremo poi in un altro video Cari telespettatori Io spero che non vi farà vedere gli stickers Perché sono inutili Ecco Ovviamente c'è gente che mi dà ragione Questo è ovviamente il solito indizio Che chiaramente Semplicemente Ovviamente può essere diverso L'indizio l'abbiamo già trovato Anche altre volte Gli indizi sono casuali Però spero che non aver trovato la gatta Qua va bene Sì Via via per la roboccia Ti maledetti stickers Gli indizi Palla fucsia Andiamo con aprire la bottiglia Prego Vai vai Ok No è diversa Perfetto È una bottiglia che abbiamo già visto Però Sì Spero di non aver beccato la cheerleader Perché Cioè ma sei Cioè appena c'è la bottiglia Sei già chi è Sì La Oddio Com'è che si chiama quella che fa le parate La majorette Quella che fa le parate È il portiere No Ho già capito Sì Non ce l'ho È un'altra che mi piace Sì Sì Le scarpine gialle Non le ho mai viste infatti No È un'altra che mi piace Che avevo scambiato Cioè E che mi mancava Cioè Cioè Mi mancavano Cioè Scusate Cioè Rendetevi conto che Razza di culo che ha 25 lol E Pochissimi doppi E questo non è un doppio Incredibile Esatto Perché la una è di quella Delle 5 che mi mancano Sì 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 Sono felicissima Baby Sì Questa è quella vestita D'americana Bellissima Americana 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 Uè Ma io spero che non sia ciccione Perché mangia troppe cose Che bello Sono contenta Quindi adesso al momento Me ne mancano 4 ragazze Io non sono contento Perché sarà un obese del cavolo Perché mangia troppe schifezze Da McDonald's Visto Allora ragazze Io questa L'ho beccata Praticamente Nello stand Dove avevano Quante ne avevano? Forse 4 o 5 Che erano praticamente Al di sopra del box E come vedete Ancora una volta Diverso La mia teoria è giusta Perché praticamente Ho preso Quella che non ho Infatti si vede Che è un'americana Mezza marocchina Anche questa Aspettate che adesso La veste E poi vi facciamo vedere E' un'americana Color Senape Ragazze Ma la fortuna Veramente Sti giorni Sono contentissima E sarebbe? Come si chiama? M.C. Swong M.C. Swong Sì Cosa è cinese? Non è americana? No Tanto si è vestita L'americana Qui non ha i buchi negli occhi Quindi presuppongo Non pianga Uè signorina Vediamo Non fa pipì Quindi probabilmente Sputa Se sentite rumori Ragazzi È mio bimbo Non fateci caso Ecco qua Uè fai poco la dura Con quel cappellino Lui Se no Ti arriva un bel Ciappetun Che ti può vedere Mi Facciamo vedere Se non capite Gli ho detto Cara ragazza Fai poco alla sbruffona Perché se no Ti arriva un bel schiappetun Appunto È M.C. Swong E praticamente Ragazzi Di questa serie A parte questa piccolina Che in Italia non c'è Le ho finite tutte Quindi finito Il Dily Club Esatto Il Dily Kev L'ho finito tutto Quindi adesso Vediamo qua Per me è sputa Anche per me Perché non ha i punti Non ha praticamente Buchi negli occhi O ce l'ha No no Le ha chiusi Le ha chiusi Ok Che bello ragazzi Quindi sputa Per forza sputa Vediamo Sputa Sputa Se non hai bocchino Ti sputa Sputa Mettila nell'acqua Nell'acqua Sputa Sì va bene Sì va bene ragazzi Sputa 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 Buona Ok Ok ragazzi Quindi partiamo Molto molto bene Uno su cinque È una botta di vita Altro che da cura Praticamente Ora me ne mancano Quattro Per finire la serie Perché contando Quelle che in Italia Non sono arrivate Praticamente Me ne mancano Quattro Io ho detto Finora le serie E la staple finita Sono felicissima Noi ci vediamo Al prossimo video Con la prossima Apertura E pensare che altre volte Era veramente delusa Contro Le doppioni Ve lo ricordate Adesso Io spero Che in queste due ragazze Ci siano Delle role diverse E non doppia Lei vive sempre di speranza Cioè quando le capite Non doppioni È in lacrime totale Lei vive È controversa Quando gli va tutto bene Ok Quando gli va tutto male Porca misera Che pale Ma sembra doppia Oh me Non ne voglia più Ok Ci vediamo alla prossima Ok Alla prossima Ciao Ciao